Aurora Ramazzotti, figlia del cantante Eros Ramazzotti e della conduttrice Michelle Unziker, sarà la conduttrice della striscia quotidiana di X-Factor su Sky. Un'opportunità arrivata senza che la ragazza abbia mai avuto esperienze televisive, tanto che sul web le polemiche sono state molte, a tal punto che Sky ha scelto di diffondere un comunicato stampa per spiegare le ragioni della scelta, mentre Eros Ramazzotti attraverso Instagram ha preso le difese della figlia spiegando che, cito testualmente, la vita va così, c'è chi ha più possibilità e poi nessuno della mia famiglia ha rubato niente. Per poi concludere con la frase, dobbiamo metterci in testa che la vita oggi va così. Ma secondo lei in Italia c'è ancora la meritocrazia oppure siamo un popolo di raccomandati? Non esiste la meritocrazia, è un mondo di raccomandati questo, non solo in Italia ma penso dappertutto. Perché non esiste la meritocrazia? Perché non esiste? Perché io conosco migliaia e migliaia di giovani che vogliono intraprendere il lavoro, ma anche il più semplice dei lavori e non riescono perché ci sono le spinte e le raccomandazioni. Non penso sia un messaggio un po' scoraggiante per le persone che magari studiano per anni e poi sperano di trovare lavoro per merito? Questo io lo sto provando con mio figlio, 25 anni, ha studiato e è già la terza o la quarta volta che le soffiano il posto di lavoro perché ci sono i raccomandati. Quindi sono problemi concreti e reali che esistono. Quindi si sente anche di condannare la scelta di Sky di chiedere a questa ragazza che non aveva alcuna esperienza televisiva di condurre un programma come X Factor, come il daily di X Factor, soltanto probabilmente perché è figlia di Ramazzotti e Unziker. Io non condanno Sky, ognuno poi le cose si gestisce come vuole. Perché magari è una scelta di marketing? È una scelta di marketing, certo c'è andassi io, quella trasmissione non la vedrà bene nessuno, quello forse è un mondo distante da me. Chi dice, per concludere, chi dice non guarderò il programma perché c'è quella ragazza a condurre, secondo lei esagera oppure no? Per me è sbagliato, io dico invece che lo guardano perché c'è la figlia di Eros Ramazzotti e... E vedere come se la cavano. Come se la cavano, esatto, e poi sono due belle persone. Popolo di raccomandati. Perché? Perché questa cosa qua risale già dal Medioevo. Addirittura? Eh sì, quindi essendo un paese tradizionalista ci si torna nelle tradizioni, quindi nell'antichità, non c'è nulla di nuovo. Spiegaci meglio, perché dal Medioevo? Dal Medioevo perché risale, essendo un paese tradizionalista, risale tutte queste tradizioni e quindi non c'è la capacità, come in altri paesi, di fare delle cose innovative. E questo porta quindi ad accettare anche questo sistema di raccomandazioni? Sì. Secondo te il fatto che Sky abbia scelto una figlia di... quindi una figlia d'arte senza una vera e propria esperienza televisiva, è una scelta da condannare oppure no? Sì, da condannare. Quindi tu non sei felice del fatto che Sky abbia deciso di scegliere qualcuno che non ha esperienza, piuttosto che invece qualcuno che tenta di fare quel tipo di carriera e non ci riesce? Sì, d'accordo. Questo ti porterà da spettatore eventualmente, qualora dovessi mai seguire X Factor, a non guardarlo più oppure comunque lo guarderesti? Sì, non lo guardare più. Per protesta. Per protesta. Per protesta. Ma ci cerchi di andare verso la meritocrazia, però credo che ancora ci sia molte, molte raccomandazioni in Italia, da quello che si capisce. Però uno spiraglio positivo lei lo vede? Sì, sì, questo sì, perché c'è una certa ribellione, tra virgolette, da parte delle persone che tendono a portare questo nuovo sistema e quindi cancellare un po' quello che sono il vecchio sistema del partitocrazio, comunque della raccomandazione, tra virgolette. Lei si sente di condannare Sky per la scelta che ha fatto? Ma neanche un po', Sky è una tv privata, può benissimo fare quello che ritiene giusto. Se fosse pubblica discuterei, ma è privata quindi per me è liberissima.